Siamo arrivati a un po' in corretto, vieni, entrare, scava e si accende. Proviamoci. Ok, vediamo. Iniziamo a fare una scelta di scegliere. Quando sei alla scelta di l'operità sta l'acqua. Grazie, guarda, mi devo sedere un po'. Siamo arrivati a un po' in corretto, a un po' in corretto. Grazie a tutti.